ma oggi si va in nave vuoi il ditto? sveglia sveglia se no partiamo senza di te ciao 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 dai vuoi il latte? eh il latte smuove Maria Monti buongiorno boing buongiorno si parte si parte fai ciao ciao alla casina la rivediamo fra una settimana te stai ancora dormendo ciao ciao casina ci siamo ci siamo patatina occhio che gli si entra andiamo questa è la nostra MSG poesia è enorme qui c'è qui c'è Siamo qui al buffet Intanto aspettiamo che siano pronte le nostre camere Mi sembra un po' nervoso Eh babbo? Sei un po' nervosa? No, c'è qualcuno che mi rende un po' nervoso Allora, siamo finalmente approdati in camera e vi faccio vedere un attimo velocemente come è la nostra cabina Allora, quello dove avete visto me era l'ingresso C'è un po' di casino perché adesso dobbiamo recuperare anche altre due valigie ma sì, c'è un po' di casino Qui c'è un armadio lungo fino a terra con anche i giuvoti di salvataggio Ah, qua c'è anche la cassaforte Non si riesco ad aprire di più perché c'è la borsa davanti Qui c'è il letto, il lettone con due comodini Carina Qui c'è la tv La specchia figura intera davanti al letto Qui c'è una scrivania Qui c'è il divano che diventa un altro letto In teori ci dovrebbero dare anche le sponde per Alexa per stasera Qui c'è il terrazzino Wow Amore, sei contenta? Guarda di fuori, mamma che è Guarda eh Oh mamma Prima c'era il gabbiano qui di sotto, eccolo Questa patatina è distrutta Siamo ben sistemati, Alexa sta dormendo Luca invece è andato sul ponte per fare la simulazione Tra poco dovremo partire Scusate ma sono sul terrazzo Il sole addosso è bellissimo in realtà Sono proprio sbaccatissima Stupendo Tra l'altro abbiamo avuto fortuna che è anche una bella giornata Perché quando siamo partiti da Rimini era veramente bruttissimo Invece qui è una bella giornata Ho notato che siamo sul lato sbagliato della nave per vedere la costa Perché per il giro che fa la costa si vedrà dall'altro lato della nave Noi quindi saremmo più verso il mare Però comunque è bello lo stesso Se Alexa si spegna in tempo per la partenza che dovrebbe essere più o meno verso le 5 Andremo di sopra a vederlo dal ponte principale Che spettacolo! Questa è la vista dalla nostra cabina Noi siamo andati di sopra ma anche qui c'è una bellissima vista Popolina Ha trovato qualcosa Ha trovato qualcosa Ha trovato qualcosa E' una bella Ha trovato qualcosa Che cosa? Ha trovato qualcosa Noi siamo andati Noi siamo andati Ma non ti appoggiai con la bocca Che pelli Alexa fai vedere il tuo outfit outfit of the night Niente tutto per terra 2 out of the night Catatuna Ah ho ho chi c'è E allora Lei si sta già riempiendo di pane perchè è tardissimo Sono le nove e mezza Abbiamo scoperto di essere al secondo turno di Di cena E quindi è tardissimo È alle nove e mezza Ci sta servendo Raul Bellissimo il bigliettino Dove si presenta il nostro cameriere Quello che sarà il nostro cameriere Penso per tutte le volte Non lo sappiamo Lo sappiamo Questo è bello Però Ovviamente di tutti i gatti Ho dimenticato di firmare Prima di cominciare a mangiare Ma va bene lo stesso Buongiorno Buongiorno amore Buongiorno Dai iniziate Ma fa vedere che bella colazione in camera Su uno che manca al cinema Amma Si hai ragione amore Muffin Pane tostato Yogurt Cereali Latte Lei se l'ha già tenuto Poi caffè là dentro Per un momento è acqua Ah no Non so che è caffè americano Cioè caffè Ma sentivo l'odore di caffè Ah si si è caffè è caffè Ok E in più c'è questo Eh si Che spettacolo È la mattina amore Non lo spaccare però Alexa fai ciao Fai ciao lì Ciao Alexa Alexa Pronta? Uno Due Tre Wahoo Alexa Bravo 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 Siamo nel teatro Siamo qui perché facciamo l'escursione E quindi dobbiamo sentire le indicazioni Topola Topola Verrà la mamma Amore Amore Come Mi Grazie a tutti. Un'inception di video. Io. Loro si stanno vedendo dei vecchi video. Io ho appena finito di prepararmi, questo è il vestito che ho scelto per questa sera. Andiamo? Sì. E qui? Alexa, fai vedere anche il tuo outfit. Siamo seguita per dire la mamma. Tu sei ancora sotto scarpe? Dai, dai, dai. Oh, essa. Wow, che bellina che sei. Siamo in coordinato. Oh, sì, sì, sì. Ciao. Saluto a tutti, neanche fosse la regina d'Inghilterra. Ciao. Ciao. Ancora. grazie